Ciao a tutti ragazzi, oggi parliamo dei bastoncini da trailer di Decathlon con il marchio Evadict ed ho qua, sia quelli in alluminio che quelli in carbonio, quindi vedremo pregi e difetti di entrambi i modelli ma soprattutto la parte più importante, ha senso acquistarli oppure no? Scopriamolo nella recensione completa. Inizio a parlarvi dei bastoncini da trailer del modello in alluminio, quello più economico più economico perché costano 69,99 euro, diciamo 70 dai Io ho preso la misura da 130 cm perché sono alto 1,90 m, esistono una versione anche da 110 e 120 cm Nella mia versione da 130 cm pesano 194 grammi, quindi diciamo che sfiorano i 400 grammi la coppia Inizierei a guardare questi bastoncini dalla punta, punta in carburo ritusteno che io li ho utilizzati veramente tanto in questi ultimi mesi mi sono trovato veramente bene e non si è per nulla rovinato Si è rovinato un pochino l'anellino che sta intorno alla punta e vabbè dai ci può stare perché comunque è in materiale plastico molto classico, l'anellino non si può togliere e non si può neanche sostituire, cioè c'è questo, punto e basta e se vogliamo mettere esempio quelli da neve o toglierlo completamente non è possibile Di sé il bastoncino come avrete sicuramente visto è il modello ripiegabile a tre vie quindi noi possiamo andare ad aprirlo semplicemente allungando l'ultima parte del bastoncino e fermandolo con la clip Devo dire che l'apertura mi ha abbastanza convinto Storgo un pochino il naso per quanto riguarda questa parte plastica diciamo che si infila dentro la parte superiore del bastoncino perché secondo me alla lunga questa parte plastica tenderà a rovinarsi proprio per natura del materiale Avrei preferito non avere questa parte in plastica ma avere in sé il cordino in nylon che sicuramente si usurava di meno Quindi non lo so, adesso sta funzionando bene però vedo già che un pochino la frizione del bastoncino sta iniziando a usurarla In sé per quanto riguarda l'apertura comunque funziona bene Il bastoncino si apre in pochissimi secondi, in due secondi l'abbiamo montato senza tanti problemi Una cosa che non mi è piaciuta però dell'apertura e qui arriviamo a parlare anche del bilanciamento è proprio il punto in cui abbiamo i due pezzi del bastoncino quello dove una parte si infila dentro a quella superiore dove c'è il manico Non mi è piaciuta perché praticamente c'è un minimo di gioco C'è un piccolo gioco, secondo me parliamo di un millimetro ma forse anche meno di gioco che alla lunga tende a dare veramente fastidio e questo vi assicura essere un problema dei bastoncini perché oltre ad averlo riscontrato sia su questo in alluminio che su quello in carbonio ho avuto modo, facendomeli prestare a diverse persone, di provarne altri dieci di questi bastoncini tra alluminio e carbonio e tutti presentano questo minimo gioco questo ne compromette abbastanza la rigidità del bastoncino poi di questo magari ne parliamo sul punto di quelli in carbonio però è sicuro che questo gioco tende a dare abbastanza fastidio per quanto riguarda invece la rigidità di questi qua in alluminio beh, essendo in alluminio non è super top però dai, secondo me se la cavano bene per essere in alluminio continuando arriverei a parlare dell'impugnatura innanzitutto mi piace il fatto che abbiamo anche la parte di impugnatura bassa per quando stiamo facendo delle salite particolarmente ripide e in sé l'impugnatura essendo fatta in schiuma di eva non mi ha dato problemi né per quanto riguarda sudorazione né per quanto riguarda calli e tenendo conto che questi bastoncini utilizzati durante il trail gregne sud le ho utilizzate per davvero tante 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 ore quindi un'impugnatura secondo me ben costruita, ben fatta con un giusto rapporto tra morbidità quindi materiale bello al tatto e soprattutto durabilità parlando sempre della parte superiore parliamo anche di questo laccetto che ci serve un po' per scaricare la tensione del nostro polso allora, vabbè, funziona bene nel senso che essendo anche un bastoncino alluminio ci sta questo tipo di laccetto abbiamo anche una parte in velcro per chiuderlo molto semplice anche andare ad aprirlo e chiudere e a stringere quindi diciamo che funziona bene dai, per il bastoncino alluminio ci può stare ma come performano questi bastoncini? allora, alla lunga comunque mi ci sono trovato abbastanza bene il bilanciamento non è proprio ottimale tende ad essere un pochino a favore della parte superiore vabbè, però ci può stare col sono diciamo al prezzo di quello che è il bastoncino però per il resto mi ci sono trovato abbastanza bene durante la corsa non intralciano sono facili da aprire, chiudere, rimettere via quindi è comunque secondo me un prodotto abbastanza vaido passiamo ora invece a parlare dei bastoncini in carbonio iniziamo a parlare della parte inferiore sempre del nostro puntale in tungsteno e anche qua mi ha convinto essendo lo stesso anche dei bastoncini alluminio quindi mi ha convinto ci può stare per quanto riguarda il peso in questo caso parliamo di 154 grammi per il mio da 130 centimetri naturalmente esistono anche le taglie inferiori e più la taglia diventa inferiore più il bastoncino tenderà a pesare meno per quanto riguarda l'apertura anche su questi qua in carbonio il pezzo di plastica qua sull'apertura sinceramente si sta usurando quindi anche qua mi dà l'idea di non essere così tanto duraturo per quanto riguarda la rigidità anche qua vi confermo come vi ho detto prima su quello in alluminio che c'è questo gioco di un millimetro dove si congiungono le due parti dei bastoncini che non mi convince però per il resto diciamo che non si sentono così tante sollecitazioni sicuramente meglio di quello in alluminio ma comunque qualcosa ogni tanto si sente un aspetto che però non mi ha convinto di questi bastoncini la grandezza in sé del tubolare parliamo di una grandezza non dichiarata da Decathlon almeno io ho cercato ovunque non l'ho trovata però metro alla mano misura 1,5 cm nella parte superiore secondo me è tanto è tanto perché comunque nel momento in cui noi corriamo e lo teniamo in mano che dire lo sentiamo che lo teniamo in mano è abbastanza cicciotto è ingombrante secondo me dovranno lavorare un pochino di più sul diametro in sé del bastoncino e magari riuscire a portarlo alla grandezza di 1 cm almeno continuando per quanto riguarda l'impugnatura allora anche qua troviamo l'impugnatura divisa in due con la parte inferiore e la parte superiore la schiuma di Eva mi ha convinto anche in questo caso in questo caso però secondo me non ci sta il cordino qua secondo me dovevano implementare almeno un guantino perché comunque essendo un bastoncino pensato per fare lunghe distanze un guantino serve ma come performa questo modello in carbonio? allora come vi dicevo le sollecitazioni ogni tanto si sentono alla lunga secondo me tende un pochino a dare noia soprattutto per quel gioco che c'è a metà del bastoncino ma la cosa più importante è il bilanciamento secondo me questi sono un pochino più sbilanciati rispetto a quelli in alluminio tendono ad essere un pochino più pesanti nella parte superiore va bene che sono bastoncini abbastanza economici però anche il bilanciamento mi ha lasciato un pochino a desiderare in conclusione quindi cosa ne penso di questi bastoncini da trail di Decathlon? iniziamo col modello in alluminio come vi dicevo venduto a 70 euro secondo me ci può stare dai un trail runner che si avvicina non vuole spendere tanto 70 euro per questo bastoncino e consono a quello che sono le sue prestazioni a quello che è anche il mercato quindi bastoncini in alluminio vi consiglio abbastanza di comprarlo dai mi ci sono trovato bene passiamo ora invece a parlare dei bastoncini in carbonio questi qua essendo venduti a un prezzo di 99 euro e 99 entrano in un mercato completamente diverso soprattutto quello delle lunghe distanze innanzitutto vengono a analizzare il mercato ovvero che esistono dei modelli di Lecchi e Black Diamond che ormai si trovano in giro a 100 massimo 110 euro non i modelli di quest'anno intendo dire modelli magari di due anni fa che offrono prestazioni completamente diverse ovvero una rigidità migliore magari già un guantino un guantino che sulla lunga distanza può fare la differenza una sezione del bastoncino minore rispetto a questa qua da un centimetro e mezzo quindi che dire allora il mio suggerimento è se avete 100 euro da investire vi consiglio di guardare altri marchi magari modelli di qualche anno passato perché a mio parere sono meglio rispetto a questi qua di Evadict se invece volete acquistare questi qua di Evadict va bene alla fine rinuncerete a qualcosa che vi ho appena descritto nel video però comunque non vi ci troverete così mai nel senso una gara di un giorno magari in una 60-70 km la farete senza tanti problemi naturalmente se invece dovete affrontare gare da 100 km in più andate sicuramente su altri marchi e lasciate perdere Evadict perciò ragazzi io nella speranza sia stato esauramente esaustivo anche per questo video e di avervi consigliato bene per i vostri acquisti vi ringrazio per l'ho guardato e noi ci vediamo al prossimo video ciao